Ciao a tutti e benvenuti a Do It Yourself Ispirazione Oggi voglio farvi vedere come ho realizzato questi cupcakes Sono cupcakes fatti con marzapane e con una glassa alla vaniglia dove sopra sono stati applicati dei confettini come decorazione Sono ideali per i compleanni e anche molto buoni Ecco quello di cui abbiamo bisogno Allora, 100 g di zucchero 80 g di marzapane 60 g di burro 2 uova 60 ml di latte 2 cucchiai di lievito 160 g di farina e un pizzico di sale Per la glassa poi abbiamo bisogno di 100 g di margarina 250 g di zucchero a velo e una bustina di zucchero vanigliato Come prima cosa unisco lo zucchero al mazzapane e al burro Aggiungo le uova Aggiungo le uova e il latte Per la farina aggiungo i due cucchiai di lievito e il pizzico di sale e il latte Quando si unisco lo zucchero a velo Ok, l'impasto è pronto e ora vado a riempire le 12 formine per i cupcakes che poi andranno messi in forno per 20 minuti a 180 gradi. Ok, nel frattempo per realizzare la glassa mischio la margarina con lo zucchero a velo e lo zucchero vanigliato. Perfetto! Quando i muffin si saranno raffreddati per bene procedo con la glassa. E dolci si infundo, aggiungo alla glassa i confettini. Come decorazione. Eccoli i cupcakes pronti! Io li trovo davvero carinissimi e super adatti alle feste di compleanno tra bimbi anche perché ne vanno ghiotti. Se ovviamente vi sono piaciuti scrivetemelo nei commenti, scrivetemi anche se voi avete utilizzato altre decorazioni. seguiteci e al prossimo video! Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!